Perché stai scrivendo una lista di canzone? E perché stai scrivendo una lista di canzone? E allora di matematica? Perché ovviamente in quella di cinnastica mi risulta molto più difficile. Mentre faccio esercizi, come fai? Perfetto, cosa dobbiamo fare? Al primo giorno di scuola vi devo già dividere? No, no, scusi, prof. Scusi. Quante persone come noi conosci che sono diventate cantanti? Noi adesso entriamo da quella porta e gli spacchiamo il culo a questi. Spacchiamo il culo a chi? Nessuno ha mai fatto una canzone per me. Eh, la faccio io. Tu fai sul serio questa cosa della musica? Ci credi davvero? Insomma, si può sapere come vi chiamate? Però serve corto. Non esistono nomi di tre lettere. Non so qual è il modello base dell'Harley Davidson.